Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Nel corso degli anni i tre tenori del volo hanno raggiunto negli anni un grandissimo successo internazionale e sono acclamati in tutto il mondo. Tuttavia, i membri del trio sono sempre stati discreti sulla loro vita sentimentale. Una caratteristica insolita nell'industria dello spettacolo che spesso mette in risalto la vita privata dei personaggi pubblici. In questi ultimi mesi sono circolate indiscrezioni sempre più insistenti circa il possibile scioglimento del gruppo. In particolare, si è sparsa la voce che Gianluca Ginobili avrebbe già comunicato la sua volontà di lasciare il gruppo per intraprendere una nuova carriera nel mondo del cinema. Il tenore abruzzese è fidanzato con Eleonora Venturini Storano, stilista e nipote di Vittorio Storano, noto direttore di fotografia del cinema, e verrebbe quindi introdotto nel mondo del grande schermo proprio grazie al suocero. Per Ginobili le cose procedono a gonfie vele anche dal punto di vista sentimentale. È legato da ormai quasi due anni a Eleonora, della quale non perde occasione di dichiararsi innamoratissimo. È anche nota per essere la nipote del rinomato direttore della fotografia Vittorio Storaro, con cui ha un forte legame familiare. Sul suo profilo social sono visibili diverse foto che la ritraggono insieme al nonno durante importanti eventi cinematografici, come la mostra del cinema di Venezia. Per gli esperti di gossip ormai non ci sarebbero dubbi. Il tenore abruzzese e la bellissima Eleonora potrebbero convolare a nozze molto presto. Mancano solo le conferme ufficiali dei diretti interessati, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.